L'Alto Forno 1 è stato riacceso alla presenza del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Non una celebrazione, l'ha definita il Commissario straordinario di Acciaieri d'Italia Giancarlo 40, ma una ripresa della normalità. Un primo passo, aggiunto, necessario, che porterà alla decarbonizzazione e all'implementazione dei forni elettrici, grazie ad ingenti investimenti, un percorso che, secondo il Ministro, sarebbe stato condiviso con le istituzioni e le parti sociali. Perché qui in fabbrica ci si confronta e concordare con loro e con le autorità locali il percorso che prevedeva anche necessariamente questa tappa, come ben sa la Commissione Europea che ci ha autorizzato al prestito ponte. Secondo quanto dichiarato da Urso, il Governo non terrà per sé quote, come è accaduto nelle amministrazioni straordinarie precedenti, ma potrà richiedere la Golden Power. Questo esercizio della Golden Power viene esercitato e in quel caso noi porremo delle condizioni vincolanti, anche attraverso delle procedure, per esempio di presentazione di piani semestrali o annuali, per garantire che tutto ciò vada secondo le prescrizioni, che sono vincolanti per l'acquirente, soprattutto se esso fosse un acquirente non europeo. Questa garanzia data alla Golden Power è molto più cogente di qualunque contratto. E blinda il processo. Per Urso a Taranto il Governo ha rispettato le procedure, avviati i ristori per le imprese dell'Indotto, trovato un accordo con i sindacati per la Cassa Integrazione, fatto i lavori di manutenzione degli impianti per garantire la sicurezza dei lavoratori, oltre all'avvio della gara internazionale a cui hanno preso parte player intercontinentali. Eppure c'è chi non la pensa così. All'esterno dello stabilimento non sono mancate le proteste di associazioni ambientaliste, comitati e liberi cittadini. Per Valentina Occhinegro, vicepresidente di giustizia per Taranto, non ci sono grandi aspettative. È vergognoso e offensivo che un ministro della Repubblica Italiana sia qui oggi per festeggiare la riaccensione di un alto forno a carbone. È una cosa che nel 2024 per la città di Taranto, per quello che ha subito, per tutto quello che continuiamo a subire, è assurdo. E poi c'è Stefano Sibilla, segretario generale dei lavoratori metalmeccanici organizzati, che è un lavoratore il Vainais, ancora in cassa integrazione. Io entro solo, esclusivamente, se si faranno le bonifiche. Questa è una fabbrica che oramai è morta. Questa fabbrica non è più compatibile con la vita umana. Qui oggi viene un ministro dove qua non ci sono i lavori aia, non sono stati fatti. Che garanzia questa fabbrica per tutti i lavoratori o per l'intero territorio tra salute e occupazione.